Dove sono questi bambini? Andiamo a mangiare! Dove siete? Come siete? Buongiorno ragazza family! Oggi ho favorissimi, a te c'è un giro Ti faccio vedere la faccia La faccia Com'è la faccia? Oddio! Ma l'hai decapitata, scusa? Beh, ci sarà in giro questa faccia qua? Sì Che vi darà fastidio? Sì E quindi raccontami un po', ma voi cosa dovete fare? Dobbiamo trovare tutti gli ingredienti dell'ospedale Ma scusate un attimo, ma chi è questa bellissima bimba? Si chiama Diadon, è la nostra amica Wow, ma tu parteciperai alla ricerca dello slime? Degli ingredienti slime? Sì Amore Quindi si parte? Sì Grazie a tutti C'è un bilancio? No, è un bilancio! In andiamo a tutta la ricerca diallo Egli gradiente! Arriba Piove siete I S望 12 31 33 48 48 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non c'è nessuno. Vado a vedere via. no voglio aiutare questi bambini dove non c'è lei probabilmente non c'è niente lei protegge i posti dove c'è lo slime manca ancora la spatolina da mescolare e la ciocciola ragazzi andiamo in cucina a vedere perché la nona granny non c'è non c'è niente in frigo si in frigo si in frigo no se posso non la granny non c'è niente ecco la colla abbiamo formato slime ciao ragazzi ora la nonna granny che è sconfitta allora faremo uno slime prima la colla poi il glitter e poi un po' di attivatore bene qui c'è davide allora dovete proprio aprirla e no a non così se no ci mettete una vita madonna davide ma tu che cosa hai fatto lo vuoi dire ai nostri fan che cosa hai fatto la faccia bravissimi bravi ciao giardina ma sei bravissima bravi non sporcatevi le mani perché colla no 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 intanto io vi saluto sono la mamma dei lazza e niente sono arrivata adesso mi hanno detto di questa challenge che hanno fatto con la nonna granny io non sapevo nulla vabbè allora avete messo tutta la colla bravissimi richiudetela pure ok adesso mettete i glitter belli i glitter belli rossi ma la spaca no 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 basta girare bisogna girare no io ho spaccato questo orman nel senso che così potrebbe andare bene secondo me sono un po pochi amore io ne met во particolare un pochino di più che dici così basta vediamo Facciamo così Poi se ne vuoi ancora le aggiungi Secondo me tipo Davide e Andrea Lo mettono tutto Stiamo mischiando qua Sì Adesso mischiate prima Sì sono i pigiamini Giada secondo me sono troppo pochi I brillantini Che bello Guarda che ne abbiamo moltissimi Di brillantini mettetene di più Potete anche mettere tutta la scatolina Non si sta formando No ma non si può formare perché non hai ancora messo l'attivatore Adesso è solo Colla e brillantini Aspettate Mi stanno Come stanno venendo Mi sa che la nonna Granny ha rapito i super pigiamini Ha rapito i super pigiamini Non lo so Ah ma perché per i colori Sì dei glitter E' vero E' vero Ma allora fatemi capire Quindi tu saresti Lufetta Tu saresti Tu saresti Io cerco il mio preferito E io Gatto boy Il mio preferito Ma dai Pazzesco Come sta venendo Allora adesso Adesso dobbiamo mettere l'attivatore Ragazzi Mettiamo l'attivatore Allora un attimo solo Allora Giardina aspetta che vi aiuto uno per volta Allora Ok un attimo Facciamo Andrea Aspetta eh Giardina Vediamo Andrea Metti l'attivatore Non metterlo tutto insieme Mettine metà magari E poi così va Sì allora facciamo una cosa Tu mischia Tu mischia vai Così vedo Io vedo Guardate Guarda 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 Guardate 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 come sta venendo Vai Andrea Andrea Gira gira Vai gira Andrea Si sta Ma si abbondiamo Piano piano Davide guarda che meraviglia Anche tu non c'è adesso l'attivatore Vado vado Sì guarda che meraviglia No 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 Ancora no Ancora no Gira 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 Si sta pensando guarda Guardate lo metto Guardate qualcosa È mio Vai No è durissimo Dici che l'ho messo troppo Sì Ma c'è il decambonato Dai gira gira Adesso gira C'è il decambonato Allora questo slime È quello proprio famosissimo Sì ma con il glitter Che prevede solo la colla trasparente I glitter e l'attivatore Andrea Davide Mettine ancora di più di attivatore Adesso la facciamo con Giada Questo Prendiamo Sì mettine ancora di più Secondo me puoi iniziare a prenderlo Sì Vai vado Allora adesso facciamo Lo messo tutto Lo messo tutto Gira bene Gira bene l'attivatore Lo messo tutto Com'è Andre Schifoso Mischia bene Secondo me dove mi schierà ancora bene Allora Giada Vado eh Tu gira eh Tu gira 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 Brava Gira 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 Andre Gira gira Giada gira 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 ancora Gira ancora Gira aspetta che ti aiuto io Anche me Gira Allora Come è venuto questo slime Bellissimo Bellissimo Ragazzi Chighissimo Ma non è grandi Secondo me ragazzi No ma non è troppo il colore dei pigiamini Ma sono proprio i colori dei pigiamini Ma ci amo Com'è il tuo Giada Devi lavorarlo bene Siamo il pigiamasco Quello di Davide è pazzesco Fammi vedere Davide Guarda guarda che roba Ma proviamo a fare quella cosa lì Di quando lo metti sul tavolo E gli fai fare la bolla Ci proviamo Eh sì ma ci sono Allora Puliamo un po' dalle ciotole E ci proviamo Sì Però adesso però è stupendo Davide ma è lunghissimo Attento Ma guarda posso fare ancora più lungo Wow È venuto Bravi ragazzi Siete bravissimi Bravissimi Guarda Ma qui c'è una piccola pausa in corso Sì Ma io A me non sto gatto Mangia con le mani Con la carta Ma io se no Se no qua mangiamo No Si è appiccicato lo slime Eccolo qua Lasciano nella carta Si è appiccicatissimo Infatti Nonna Granny è stata scompita Wow Bravissimi ragazzi Nonna Granny è sparita Mettete un like E attivate la campanella Wow E non perdetevi Un altro video De Lazza Family E anche di Giada E anche di Giada Eh sì Questo si può chiamare Il canale Lazza Family e Giada Amore Ciao 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 Sì Sì Sì